una fiamma al giorno energia del 22 di febbraio chiediamo ai nostri angeli che ci dicano qualcosa attraverso gli oracoli tarocchi di questa meravigliosa energia di questo portale 22 di febbraio scegliete la vostra variante rosa 1 rosa 2 rosa 3 andiamo subito a vedere rosa 1 secondo le regole oggi dovrete agire senza andare troppo fuori dalle regole quindi dovrete essere molto lineari nelle vostre scelte c'è l'energia dell'unione qua c'è la bellezza l'unione quindi praticamente agendo secondo le regole creerete armonia anche con le persone con cui avete a che fare e ci sarà qualche cosa di bello che risulta da questa collaborazione una collaborazione che non va troppo fuori le righe vediamo un po' rosa numero 2 felice felice allora oggi godrete di una giornata ricca di felicità e di soddisfazioni e c'è la leadership il potere della saggezza quindi qua praticamente opererete dei cambiamenti nella vostra vita se ascolterete questa gioia interiore e la metterete in pratica in tante cose della vostra giornata e ci sarà proprio un intervento di un'intuizione che agiranno proprio nella vostra vita reale e concreta vediamo un po' rosa numero 3 potere superiore oggi dovrete ascoltare la vostre le vostre intuizioni e il vostro cuore entrate più dentro all'ascoltare la vostra anima più che la vostra mente e casa qua c'è il 4 qua c'è qualche cosa che 4 e 4 anche quel potere superiore mi parla di 4 quindi ascoltare la vostra anima creerà qualche cosa di importante per quanto riguarda i vostri affetti e la vostra vita proprio concreta e materiale soprattutto quello della casa magari relativamente alla vostra casa foglie effetti e questo porterà una trasformazione molto importante per quanto riguarda la vostra vita i vostri affetti e saprete interagire molto meglio con questo sapere superiore grazie a tutti